Incipit 2 tratto da i moribondi del palazzo carignano di Ferdinando Petruccelli della gattina. Ferdinando Petruccelli della gattina muore il 29 marzo 1890 pertanto il testo è privo di diritti di autore. Legge Simili. Hordov per le persone serie 2. Come mi decisi a scrivere a pubblicare e a ripubblicare i profili dei miei colleghi. Questi brani della conversazione del charliero viaggiatore della ferrovia provano ad evidenza che la posizione di un deputato non è costellata di rose. Egli urtasi ad ogni specie di grosse e piccole miserie che lo turbano, che lo stizzano. Io sono dunque ben disposto in suo favore e da perdonargli se pecca, però che desse in mira di lunghe e aspre tentazioni. Perciò mi son mostrato in generale benevolo. Se io avessi voluto rimuovere la belletta e squarciare i veli avrei forse messo più brio e varietà in questa galleria, avrei avuto più vena e fatto più scandalo. Ho preferito scrivere mettendomi i guanti di velluto. Io non so di quei tristi augelli che infettano il proprio nido. La moderazione e la temperanza sono la forza la più reale di questo mondo. D'altronde io scrissi queste lettere per la press di Parigi, a fior di penna e senza pretensione. Io non mi ammanto di infallibilità, riproduco un'impressione personale. Quest'anno io mi sono uno dei girandoloni della camera. L'anno scorso era uno dei suoi membri più assidui. Arrivato il primo, me ne iva quando non vi resta più sui banchi che il signor Ranieri addormentato, battendo la Diana. Io provavo una specie di fascino nello studio di questa riunione di 400 italiani, mossi da tutti gli angoli della penisola. Io mi sentivo impregnato di un magnetismo abbarbagliante. Ora, come gli obietti che si discutono alla camera non sono sempre né solacevoli né interessanti, io riportavo la forza del mio spirito sull'analisi degli uomini. Io non conosco quasi alcuno, ed era ad un dipresso e isolato. E mi bisogna dunque, dapprima, tutto indovinare, leggere attraverso le fonti discrete e fredde, pensieri ardenti, desideri, aspri e diversi. Ogni parola che cadeva da un labbro aveva per me il valore di una rivelazione. Per un lavoro psicologico assiduo e fisso, io arrivai a vedere le relazioni di questa parola con lo stato reale del cervello. Ed è sarebbe davvero uno strano studio che presenterei al pubblico se mi lasciassi sedurre e mettesse a nudo lo stato secreto dell'anima di ogni deputato. Io non parlo già delle ignobili avidità né della massa ordinaria degli onorevoli. Non sarebbe egli straordinariamente curioso di prendere sul fatto la fisionomia dell'anima di certi uomini qual Ferrara per esempio, Guerrazzi, Pepoli, Brofferio, Deprettis, Lanza, Conforti, Lattazzi, Tecchio ed altri, al momento proprio in cui essi parlano e metter faccia a faccia il pensiero espresso e l'idea concepita. Non sarebbe egli singolare di segnalare la doppia corrente di concetti e desideri che partono dal banco dei ministri e da quelli dei deputati che si incrociano, si urtano, si intendono, si respingono, si rapprossimano, si attirano, si rompono. Curiosa soprattutto era questa osservazione quando il conto di Cavour sedeva al posto, mira di tutti, segna ad odi, ad affetti, a vaghezze di stima o di ambizioni e all'altezza di tutto. Ora, il barone Ricassoli e il signor Rattazzi non sono giunti ancora a dare alle loro eminenti persone questa natura magnetica che coagula tante passioni e tante volontà diverse. Le gruppa, le maneggia, le domina, le foggia a suo modo, se ne padronisce e le trasmette. Cavour morto, la storia segreta dell'anime, non avrebbe oggi mai altra importanza che il valore di uno studio psicologico. La forza politica di questa rivelazione sarebbe minima oggi di. Il nuovo mesmer del Banco dei Ministri non è ancora apparso. Io lascio dunque nel mio portafoglio questi studi congetturali, l'ora loro forse verrà. E mi limito adesso a questi schizzi a vol d'uccello che colpiscono chiunque e soddisfano il più gran numero di gusti. La fisionomia collettiva della Camera, che nell'anno scorso era nello spirito mio stesso un po' confusa, si rischiara e si svela quest'anno. Ecco perché ho ritoccato qualche ritratto, ho aggiunto qui la ruga, ho fatto gli scomparire la piega. 12 mesi della vita politica sono un secolo. E che che se ne sia detto in contrario, non vi è nulla di così mobile e così cangevole che la figura degli uomini di Stato. Esaminate, per esempio, il signor Minghetti dell'anno scorso al Banco dei Ministri e il signor Minghetti di quest'anno al suo banco di deputato. Egli è irriconoscibile e un altro uomo. La stessa figura di legno del barone Ricassoli ha subito queste stimmate. La fotografia del Parlamento italiano così ritoccata è più finita. Io aveva esitato a pubblicare in un volume le lettere mandate alla press. Io credeva dapprima che questo primo Parlamento italiano fosse un Parlamento di occasione, il quale avrebbe compiuto la sua missione di proclamare l'Italia 1, spedita alla bisogna la più urgente, e sarebbe poi ritornato a ritemprarsi al contatto dei suoi elettori. Ma questo Parlamento mira all'immortalità. Io mi decido dunque a rivedere il mio lavoro, tradurlo e presentarlo al pubblico a nuovo e completo. Dico completo perché nelle mie lettere alla press io non avevo parlato del centro della camera e ne parlo oggi di. Ma, direte voi, voi spingete nello scioglimento della camera. La sarà sciolta. Il vostro libro diventa inutile. Sero ventibus ossa. Niente affatto. Questo libro resta, dapprima, come lavoro storico per quanto minima sia la sua importanza, e poi ha avuto cura principalmente tratteggiando questi abbozzi di mirare a due scopi. Indicare, cioè, coloro che possono essere eliminati dalle novelle assemblee d'Italia, senza il minimo inconveniente, anzi, forse con un'incontestabile utilità. Poi ho rivelati coloro i quali in ogni tempo faranno parte della rappresentanza italiana, di cui sono l'olore, la gloria, l'ingegno. La prima pubblicazione era indirizzata principalmente all'Europa, onde insegnarle che nel primo parlamento italiano erano i degli uomini all'attezza di tutti gli altri parlamentari. Con questa seconda pubblicazione io voglio segnalare all'Italia la portata dei rappresentanti affinché essa possa, nelle elezioni posteriori, avere un criterio alla sua scelta. Per l'Europa io scrissi da italiano, per l'Italia scrivo da patriota. Impresi il mio lavoro per distrarmi dalle noie delle sedute, ovvero non si trattano che affari di campanile. Il mestiere di deputato, a farlo con coscienza, è un mestiere a rendere cheto l'uomo lo più svegliato, a capo di tre anni. Lo pubblicai perché mi sembrò utile alla causa italiana. Lo ripubblico perché parmi una buona azione, in questi tempi nebulosi ed incerti, di concorrere, secondo le mie forze e i miei mezzi, a spandere un po' di luce. Io non ho né amore né odio per chi che sia. Avevo dei dubbi e delle prevenzioni, ma ho saputo dominarmi. Mi sono astenuto quando non ero convinto. Di Lexi, giustizia. Ora, che mi si è permesso di aggiungere qui la van propose con cui Perea volle annunziare la pubblicazione delle mie lettere nella press, a fine di attestargli la mia riconoscenza. Gli dovevo un ringraziamento pubblico. Gielo Fon. Noi segnaliamo all'attenzione dei nostri lettori la lettera seguente, indirizzata ci da Torino. Questa è la prima di una serie di lettere in cui il signor Petruccelli della Gattina, uno dei membri più distinti del Parlamento italiano, si propone di tratteggiare le grandi linee e la fisonomia dei suoi colleghi, i più rinomati ed i più influenti, e noi mettiamo assai volentieri a sua disposizione le colonne della press. Si leggono poco in franci libri dei giornali italiani, e non si sa mica abbastanza quando l'Italia in sé rinchiude di uomini rimarchevole di ogni genere, di teste veramente politiche, di scienziati, di pubblicisti e di oratori che non temono alcun paragone. L'occasione si presenta di far conoscere un giornalista, noi cogliamo con piacere. Arriverà probabilissimamente al signor Petruccelli della Gattina di esprimere delle opinioni che non saranno interamente conforme alle nostre, di portare dei giudizi di cui noi potremmo contestare la rigorosa esattezza, di indirizzare a degli uomini che hanno la nostra simpatia, il nostro rispetto e la nostra ammirazione, degli epigrammi che noi saremo tentati di cancellare. Non il faremo, punto. Noi conosciamo il suo spirito e la rettitudine dei suoi sentimenti. Noi siamo d'accordo con lui sui principi essenziali, ciò è l'importante. Quanto alla varietà delle tinte e dei dettagli sugli uomini e sulle cose, noi li lasciamo la più completa libertà. Noi non vogliamo dir nulla dello ingegno del signor Petruccelli, i nostri lettori lo apprezzeranno. Egli ci è impossibile non di meno di non esprimere lo stupore che noi proviamo sempre. Vedendo uno straniero scrivere la nostra lingua con quella naturalezza, con quella chiarezza e facilità si rara anche fra noi. Sotto questo rapporto ancora, gli italiani sono eccezionalmente e meravigliosamente dotati. Basta per convincersene di leggere le lettere dell'abbate Galeani, i dispacci del Conte di Cavour, le ultime opere del Ferrari, numerosi lavori di Mazzini e parecchi scritti del nostro amico Bianchi Giovini. Questo pubblicista eminente che la malattia ha disgraziatamente forzato di sospendere la pubblicazione del suo giornale, ovvi egli ha così valorosamente combattuto e reso dei così grandi servizi alla causa d'Italia e della libertà religiosa. Firmato Peirat. Fine incipit 2. Seguirà il capitolo 1. Se vi interessa sentire il resto del libro mi invito a iscrivervi al canale. C'è una playlist dedicata agli audiolibri, si chiama proprio audiolibri. Ci saranno gli altri capitoli e alla fine poi verrà messo l'audiolibro completo. Grazie per l'ascolto.